Buongiorno a tutti, Sebastian di Abdoar Italia insieme a dottor Simone Baldini di Orientamento Academy, una delle nostre start-up che sta decollando molto velocemente. Lascio un attimo il dottor Baldini spiegare un attimo qual è il concept, dove vogliamo andare, quello che stiamo facendo e quali sono gli sviluppi futuri. Prego Simone. Grazie, intanto buongiorno Sebastian, buongiorno a tutti, grazie di questo invito. È un grande piacere per me presentare la nostra start-up perché è un progetto a cui ovviamente è dedicato anime e corpo ed è insomma frutto di tutta la mia vita professionale. Il nostro obiettivo è aiutare i ragazzi nel passaggio dal mondo scolastico al mondo universitario o lavorativo. Quindi rispondere alla fatidica domanda, aiutarli a rispondere alla fatidica domanda cosa farò da grande. Che è un qualcosa che tutti noi abbiamo vissuto prima o dopo nel corso della nostra vita e per tanti ragazzi questo è veramente un problema al punto che abbiamo un tasso di abbandono o fuoricorso che supera i due terzi degli studenti. Cioè su fatti diciamo cento gli studenti che si diplomano, i due terzi di loro, di quelli di loro che si iscriveranno all'università, o cambieranno facoltà entro il primo anno o andranno fuoricorso. Questo perché c'è poca, pochissima consapevolezza su che cosa si va a scegliere, sul perché lo si va a scegliere e su quanto la scelta che si fa sia davvero adatta a ognuno di noi, diciamo a ogni ragazzo, a ogni ragazza. Ecco, noi nasciamo con l'obiettivo di aiutarli in questa fase delicatissima del loro percorso. In realtà il nostro è un servizio che esiste da, io faccio questo da tanti anni come professionista, la startup nasce proprio per permettere a tutti, davvero a tutti, a costi accessibili di accedere a questo servizio. Ho scritto e brevettato un algoritmo che ci permette, grazie a un processo di digitalizzazione, di informatizzazione molto avanzato, ci permette di trasformare e automatizzare una grande, grandissima parte, in realtà tutta l'intera parte di questo processo per arrivare a offrire ai ragazzi con una formula, devo dire, ormai è diventata molto economica e accessibile per chiunque, veramente per qualunque fascia socio-economica, e poter quindi estendere a tutti questi servizi che invece fino ad oggi, diciamolo, per motivi economici erano un po' riservati alle famiglie, possiamo dire, più benestanti, ecco, ai figli di famiglie più benestanti. Quindi c'è un obiettivo proprio di allargare questo servizio che è preziosissimo perché permette ai ragazzi di, anche nella migliore delle ipotesi, non perdere un anno di vita o addirittura, insomma, non ricevere... Di vita all'università non si perde mai tempo, si diverte al massimo. No, no, sto scherzando, sto stramatizzando. Vero, però poi i costi di un anno perso, dell'andare fuori corso di un anno piuttosto che del cambiare facoltà, sono costi economici, sono costi emotivi, delusione, addirittura in tanti casi si arriva a degli abbandoni, per non parlare di problemi anche di autostima, di persone che pensano magari di essere dei pesci fuor d'acqua quando in realtà magari erano, insomma, semplicemente su una strada che non era adatta a loro. Ecco, ora spero con questo di aver descritto al meglio il progetto. Sì, cioè diciamo che vorrei fare un attimo qualche precisazione ai non addetti ai lavori, perché ormai io ci sono dentro, quindi conosco molto bene il sistema con cui lavori. Diciamo che nel processo di scelta per un ragazzo che si approccia all'università e che quindi ha terminato gli studi superiori, ci sono diversi fattori che vanno valutati. Il primo fattore ovviamente è cosa vorrebbe fare lui nella vita, cioè quello che è un'attività che potenzialmente è un'attività professionale che possa piacergli, quindi fare già degli studi che siano inerenti ad essa. L'altro aspetto è quello che è l'attitudine psicotitudinale del ragazzo specifico a fare determinati tipi di situazioni, perché io potrei vorrei fare il matematico, ma non, cioè idealmente, posso avere l'idea o l'aspirazione di fare, che ne so, l'avvocato, il matematico, ma magari non ho le attitudini e magari c'è qualcosa che riesce ad essere compatibile con il mio essere compatibile anche con ciò che desidero fare e possibilmente, perché è una cosa che non hai detto che però è molto importante, è anche una valutazione di quello che potrebbe essere appunto il mercato specifico del lavoro. Quindi combinare questi tre elementi, il desiderio, la volontà, l'attitudine del ragazzo e quindi anche lo sbocco professionale. Attualmente questi tipi di valutazioni vengono fatti in manuale attraverso tantissimi test e colloqui che Simone fa direttamente con i ragazzi, essendo uno psicologo, lui ha pensato di democratizzare, cioè di rendere questo processo fruibile ai tanti, quindi riducendo praticamente quello che ha i costi, facendolo sviluppare da un algoritmo, cioè sviluppando un algoritmo che valuta tutti i test psicotitudinali, mette insieme un po' tutte le risposte e le incroce. Sono cose molto complesse, sono non so quante ore di test e quindi è molto sicuro anche quello che è la risposta. Per fare questo Simone ha iniziato questa start-up per sviluppare appunto questo algoritmo che ovviamente ha dei costi, ha dei costi sostanzialmente di programmazione, di sviluppo, di ideologie che c'è dietro e anche di dottrina che c'è dietro a questo tipo di algoritmo e noi siamo andati, stiamo partendo adesso con gli accordi pre-campagna. La start-up ha già avuto delle offerte da sei attori per quasi un milione, corregimi se sbaglio, di fondi e quindi siamo ancora però in fase di pre-campagna perché ovviamente essendo una start-up così interessante e così testata, e adesso lascerò la parola a Simone e dirà perché è testata, qual è il grado di interesse che c'è nel mercato specifico, possiamo, siamo nella condizione in cui possiamo anche scegliere un po' gli investitori che ci piacciono di più o le condizioni migliori. Simone spiega perché è testata, come funziona, quanti contatti abbiamo attualmente in ballo da un punto di vista di potenziali utenti. Appunto ciò mi interessa dimostrare che questo sistema funziona già da anni in manuale ovviamente, in analogico, non è ancora automatizzato, però che il mercato c'è ed è un mercato pagante. Prego, Sibu. E come, come. Allora, parto da quest'ultimo dato, nel senso che il mercato c'è, e come se c'è, è pagante e attualmente, come hai detto tu, io faccio questo lavoro, diciamo, come psicologo e l'algoritmo che ho scritto mescola appunto valutazioni psicoattitudinali con valutazioni legate agli interessi, alle passioni dei ragazzi, con le loro inclinazioni personali, variabili psicologiche, che, insomma, ci sono tanti fattori che mi permettono di indicare con un livello molto, molto attendibile il livello di compatibilità fra ogni ragazzo e ogni ragazza e tutti i sbocchi possibili universitari e lavorativi che questo ragazzo, questa ragazza possono avere. C'è proprio una percentuale di compatibilità a cui si arriva. C'è un enorme mercato, io, a parte che faccio questa cosa da tanti anni, è proprio il mio lavoro come professionista. Fino adesso ho avuto dei costi molto elevati, mentre, per la singola famiglia, mentre, ora, insomma, l'obiettivo è proprio quello appunto di democratizzare, renderlo accessibile, veramente, a qualunque famiglia, a costi molto, molto ridotti. Abbiamo fatto una pre-campagna diciamo una pre-campagna di marketing per valutare l'interesse che è iniziata a ferragosto e solo nelle due settimane fra ferragosto e la fine del mese di agosto, cioè in quei 15-16 giorni, sono arrivate 600 richieste di adesione. Tra l'altro, devo dire, è una campagna di marketing fatta con un budget ridicolo, cioè un budget bassissimo. Molto piccolo. Sono arrivate queste 600 richieste di persone interessate che ovviamente è stata una bellissima, insomma, una bellissima notizia per noi, anche se, devo dire, spero di non sembrare arrogante, ma io, quando si dice io l'avevo detto, ecco, io l'avevo detto nel senso che c'è un mercato enorme. Ogni anno si diplomano dai 500 ai 550 mila ragazzi nuovi, cioè arrivano al diploma ogni anno 500 mila nuovi ragazzi e il nostro target di riferimento sono i ragazzi sostanzialmente che vanno dalla terza superiore a primo anno di università, perché abbiamo anche tantissime richieste da ragazzi del primo anno di università che ci contattano per chiederci ma ho fatto la scelta giusta? Che difficoltà ho? Perché non sto andando bene? Cosa mi succede? Ho sbagliato strada? Sbaglio modo di studiare? Infatti poi noi offriamo anche ai ragazzi successivamente, diciamo, per chi ce lo chiede, anche servizi di metodo di studio, servizi di formazione e di preparazione a tutto tondo. Quindi a chi orientiamo poi successivamente offriamo anche altri servizi. Ma il tema è che abbiamo un bacino potenziale enorme, veramente enorme. Enorme ed estremamente reattivo. Cioè io faccio questo mestiere tutti i giorni, quindi lancio le campagne tutti i giorni, ho diversi parametri di valutazione. Devo dire che la tua campagna è stata, anche io ero in vacanza, tutte le volte alla sera quando leggevo i dati rimanevo stupito sia per il numero ma soprattutto per il costo di acquisizione che era veramente bassissimo. Perché c'è da dire che adesso questo tipo di servizio fatto in maniera tradizionale ha un impatto, ha un costo, però qua correggimi se sbaglio, di 400-600 euro a famiglia, giusto? Adesso? Sì, attualmente costa 690 euro. Cioè fatto diciamo in maniera all'antica, in maniera analogica. Analogica, quindi questo algoritmo permetterà di vendere la stessa cosa con un risultato che sarà plausibile, cioè sarà plausibile, sarà sicuro nella stessa identica misura a un prezzo che andrà di lancio sicuramente sotto i 100 euro, 90-100 euro quello che sarà. Quindi abbassando quello che è il costo di entrata per le famiglie potenzialmente c'è un mercato incredibile perché adesso noi siamo di fronte, cioè tutte le mamme, tutti i genitori vorrebbero pagare al figlio un percorso di questo tipo perché è proprio insito nel ruolo genitoriale, ma allo stesso tempo da un punto di vista economico le famiglie che si possano permettere 600-700 euro sono poche in Italia e pertanto il servizio non è venduto numericamente nella misura in cui potrebbe esserlo. Questo è un po' il discorso. Poi vorrei che tu analizzassi un attimo in maniera anche molto veloce, però esaustiva quello che è la concorrenza sostanzialmente nel mercato specifico italiano perché Simone secondo me ha avuto un'idea veramente incredibile perché siamo non dico in assenza di concorrenza ma quasi, giusto? Confermo, confermo, confermo. Teniamo conto che a tutto ciò che ho descritto nel servizio che offriamo si aggiunge una parte che prima non ho specificato ma che è molto gradita e molto importante che è quella informativa. Cioè noi abbiamo tutta una parte in cui spieghiamo dettagliatamente ai ragazzi come funziona il sistema universitario, come ci si scrive, come si leggono i piani di studi, tutta la parte sugli sbocchi occupazionali, il mercato del lavoro. C'è una parte di formazione veramente importante che è mirata non solo a trasmettere loro delle informazioni ma anche a insegnare ai ragazzi come e dove reperire queste informazioni in modo certo, diciamo, attendibile. Questa roba è impagabile. Allora, il nostro praticamente unico competitor serio che ovviamente ora non nomino, credo non sia opportuno nominarlo, ma il nostro unico competitor serio è una società che questo servizio lo vende nella sua versione completa a 1500 euro, nella sua versione più ridotta lo vende a 700 euro. E è una società che è nata da pochissimo. Per il resto non ci sono privati che fanno questo, ci sono dei servizi pubblici di orientamento che sono fatti dall'università che con tutto l'impegno, diciamo, con tutta la buona volontà lo fanno, diciamo, nella migliore delle ipotesi riescono a divulgare un po' di informazioni ai ragazzi organizzando questi saloni, queste fiere, questi eventi. Io purtroppo devo dire che tanti, tanti dei ragazzi che arrivano da me arrivano e sono poi molto, molto confusi perché purtroppo partecipano a queste cose e sono ancora più confusi di prima. Ci sono poi alcuni altri che offrono questo servizio di orientamento ma in realtà sono università private che hanno come obiettivo quello di far iscrivere i ragazzi ai propri corsi, quindi non è un vero orientamento, è più una forma di marketing mascherato. E questo spiega perché un bisogno così profondo e così diffuso in realtà ad oggi è così tanto insoddisfatto e c'è così tanta richiesta, così tanta fame di orientamento, i ragazzi hanno veramente bisogno di questo servizio. Ed è il motivo per cui noi in due settimane abbiamo richiesto, abbiamo ricevuto più di 600 richieste perché offrire un servizio così altamente qualificato, così mirato, completo, a tutto tondo, a una quota economica così bassa è una roba pazzesca, cioè non insomma non esiste una cosa del genere. Sì, effettivamente è vero. Poi risolve dei problemi incredibili appunto perché diciamo che in quell'età lì nessuno di noi aveva una consapevolezza dell'io, dell'essere che magari con l'età si matura a livello di esperienza, cioè di vita, di esperienziale, ovviamente quindi avere tra l'altro anche uno psicologo che c'è dietro che quindi ha anche degli strumenti di comunicazione che sono idonei a quello che può recepire un ragazzo, cioè dice le cose nella maniera più costruttiva possibile è veramente molto interessante. Parliamo un attimo in maniera un po' più tecnica dello sviluppo dell'algoritmo. A che punto siamo? Dove vogliamo arrivare? Quali saranno i tempi di esecuzione? Perché così diamo anche agli investitori un panorama di quello che saranno i prossimi sei mesi di lavoro che dovrai ovviamente fare. Allora l'algoritmo in realtà esiste già, esiste già ma va digitalizzato, diciamo, va reso operativo in forma non solo informatica ma online, web, perché il nostro progetto non è creare un software ma un software che lavora online, in diretta, quindi è un vero e proprio portale che già esiste all'interno del quale va implementato questo algoritmo. Attualmente ho un team di informatici che sta lavorando, ad oggi è tutto autofinanziato in termini tecnici si chiama se non sbaglio bootstrapping bootstrapping cioè prendi soldi dalle consulenze analogiche e le butti per sviluppare il progetto detto in maniera grezza bolognese sì sì è tutto bootstrapping bootstrapping però occorre una bella diciamo c'è un vero team di informatici ma letteralmente informatici che hanno varie specializzazioni diverse che sta lavorando e che dovrà lavorare per diverso tempo tutto ciò ha un costo devo dire importante ed è il motivo per cui ci serve una iniezione di liquidità nel senso che il sistema l'algoritmo non è banale perché ora faccio una piccola digressione sulla mia esperienza professionale per far capire come si è arrivati come sono arrivato a scrivere a brevettare questo algoritmo io sono psicologo scusate un attimo ti interrompo ti interrompo perché è una cosa che ci siamo dimenticati l'algoritmo è brevettato e questo è molto importante perché aggiunge sostanzialmente una protezione nei confronti di minacce di aggressioni o di è molto importante perché comunque è brevettato con esito positivo pertanto non è così banale a replicare appunto il business che Simone andrà a fare che sta già facendo scusa l'interruzione ma era doveroso dire ma è un dettaglio importante è un algoritmo che ho voluto brevettare proprio per questo motivo di protezione nel senso che in quell'algoritmo si riversa tutta la mia competenza professionale che è molto variegata diciamo perché sono psicologo a tutti gli effetti mi occupo di ragazzi e ragazze da tutta la mia vita professionale sono stato prima recruiter e poi HR manager quindi ho un'esperienza aziendale molto molto solida molto ampia sia in varie aziende come risorse umane sia come consulente HR per le selezioni quindi ho una conoscenza del mercato del lavoro molto molto approfondita e ho anche lavorato per quattro anni in una università quindi diciamo nel mio bagaglio di conoscenze si mescolano competenze psicologiche competenze sul mondo del recruiting e del mondo aziendale e competenze sul mondo universitario molto approfondite questo bagaglio di conoscenze mescolando quindi valutazioni assessment psicoattitudinali con una conoscenza molto approfondita del sistema universitario e poi del mondo del business del mondo del lavoro mi ha permesso di concepire questo algoritmo e di darlo diciamo in pasto agli informatici che ora stanno cercando di insomma con le risorse che abbiamo attualmente di implementarlo ma ovviamente servono più risorse ecco sì cioè l'obiettivo sarebbe quello di rendere operativo per febbraio del prossimo anno gli obiettivi che ci eravamo dati a Bologna anche prima sì nel senso che compatibilmente con quello che può essere il finanziamento che serve per per completare appunto lo sviluppo di questo algoritmo possibilmente anche prima però febbraio il primo febbraio potrebbe essere già un ottimo un ottimo risultato considerando che ci lavoriamo da due mesi neanche quindi contando che sì esatto ci lavoriamo da poco in ogni caso io con questa cosa andrò avanti perché o con finanziatori istituzionali o privati o con crowdfunding o con soldi miei adesso non mi importa neanche da dove arrivano i soldi ma in ogni caso andrò avanti con questa cosa perché a parte che è la passione della mia vita cioè io faccio questo io per me proprio mi scalda il cuore quando i ragazzi finalmente sono rassicurati sereni che hanno trovato la loro strada quella per me è la gratificazione più importante e poi in termini di business c'è veramente delle praterie sconfinate da conquistare quindi è un progetto che ha un seguito che comunque in ogni caso io certamente porterò avanti diciamo che i primi che investono saranno più fortunati perché ovviamente entreranno in una fase in cui ancora diciamo l'investimento avrà una grossa incidenza sul peso complessivo quali sono i tempi di esecuzione di questo algoritmo che tra l'altro mi avevi promesso che me l'avresti mandato perché volevo fare anche io il test psico-ottitudinale che non ho mai fatto niente in mezzo a tutto quello che è successo ci siamo dimenticati entrambi quanto dura questo test cioè cosa è composto come è fatto allora sono vari test diversi in realtà perché sono alcuni test attitudinali altri test psicologici altri test legati a fare emergere gli interessi c'è una parte di videocorso molto ampia con spiegazioni molto approfondite ti dico solo che ci sono tre lezioni intere dedicate a come si leggono come si consultano i siti universitari tanto per fare un esempio ovviamente mercato del lavoro sbocchi occupazionali il quanto dura in realtà uno può fare anche tutto in due giorni tre giorni quattro giorni dipende comunque sono ore sono ore 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 quindi non so saranno migliaia di domande ho cercato di bilanciare questo è un tema molto interessante del quante domande perché chiaramente volendo fare un assessment completo servono tanti test e tante domande però dall'altra parte bisogna evitare che i ragazzi si non so come dirlo in termini eleganti si annoino ecco non bisogna far annoiare i ragazzi perché sennò iniziano a dare risposte a caso oppure a saltare all'andare alla fine del test eccetera questo ovviamente falserebbe risultati quindi bisogna trovare quel giusto equilibrio che ottimizza fra quanto il test è preciso e quanto il test è lungo attualmente consta di poche centinaia di domande che mi rendo conto sembrano tante ma in realtà sono dosate bene alternate ai video poi sono è un percorso è proprio un percorso strutturato che li coinvolge quindi si parte con delle delle parti più attitudinali poi ci sono dei video poi delle parti più psicologiche insomma è studiato per coinvolgerli per farli restare concentrati e focalizzati sul percorso e farlo finire in modo più lineare possibile anche più rapido possibile per avere poi un riscontro immediato anche perché su quel riscontro poi si costruisce la strada successiva se un ragazzo sceglie di fare per esempio un corso di laurea che ha un test a missione noi lo aiutiamo in questo a prepararsi se un ragazzo comunque emergono delle criticità nel modo in cui studia facciamo corsi di metodo di studio insomma diamo anche poi a chi lo vuole chiaramente un supporto successivo quindi percentualmente fatto 100 i ragazzi che fanno questo test quanti risultano idonei a materie umanistiche e quanti invece a materie scientifiche perché tu mi spiegavi che c'era questa grossa sessione diciamo l'ingegnere e sostanzialmente il poeta o quello che può essere laureato in scienze umanistiche che può anche essere uno psicologo o qualsiasi cosa percentualmente quanti sono appunto le persone dotate a livello psicotitudinale per le materie scientifiche allora è difficile dare una risposta che sembri rappresentativa perché poi chiaramente i ragazzi e le ragazze che arrivano da me sono un campione non per forza rappresentativo dell'intera popolazione studentesca diciamo che c'è una il dato più interessante forse è che ci sono tanti profili diversi di ragazzi ci sono per esempio quelli che sono sia ingegneri che poeti ci sono ragazzi che hanno un elevato potenziale quindi a livello attitudinale possono essere adatti a qualunque strada perché hanno un elevato potenziale attitudinale su tutti i fronti possibili noi siamo adottiamo diciamo la teoria delle intelligenze multiple di Gartner quindi li valutiamo anche sulla base di questo ecco questo questo scusa ti interrompo perché io so perfettamente di cosa parli però se riesci in 180 secondi in 3 minuti sintetizza questo concetto che è importantissimo perché è un metodo che cioè non è che sia innovativo però l'applicazione è assolutamente innovativa non c'è nessuno che lo fa a parte Simone quindi spiega un attimo in che cosa consiste per favore sì allora io ho preso mi sono formato come psicologo come recruiter come psicologo del lavoro quindi ho preso queste competenze da assesso da assessment da selezionatore e le ho portate nel mondo dell'orientamento noi siamo abituati nel linguaggio comune nel parlato nel quotidiano a dire sì quello lì è intelligentissimo oppure no quello lì è uno zuccone non capisce niente in realtà questa espressione per carità fa parte del gergo comune ma dal punto di vista scientifico non ha nessun significato perché non esiste l'intelligenza in senso assoluto esistono tante forme di intelligenza questo non lo dice Simone Baldini ma lo dicono illustri studiosi della mente umana Gardner è stato il primo a percorrere questo filone ma ce ne sono anche tanti altri e comunque ormai anche gli studiosi che i teorici del fattore unico diciamo del fattore intellettivo unico anche loro si sono arresi alle idee il fattore G veniva chiamato da insomma vari autori da Sperman per esempio anche loro si sono arresi al fatto che come minimo sono due o tre diversi ora ce ne possono essere si possono diciamo clasterizzare in sette in otto alcuni autori in dieci sicuramente ci sono tanti segmenti diciamo tante abilità diverse che la nostra mente ha e rispetto alle quali ognuno di noi può avere una livello più o meno alto è come se fosse un tracciato diciamo un vero e proprio identikit e quello che noi facciamo è fare una scansione di tutte queste intelligenze per capire ovviamente poi ci sono degli elementi di correlazione rispetto al successo in termini predittivi che con quei punteggi in quelle specifiche variabili si possono avere nei diversi percorsi noi facciamo è come se fosse usiamo una metafora è come se fosse un attack che fa tante foto al nostro cervello da tante angolature diverse ecco noi facciamo la stessa cosa con le nostre intelligenze multiple intelligenza verbale intelligenza numerica intelligenza astratta intelligenza spaziale intelligenza emotiva capacità attentiva capacità di attenzione sostenuta precisione posso andare avanti tutto il giorno insomma facciamo una vera e propria scansione delle potenzialità intellettive dei ragazzi e delle ragazze per fare sì di questo è solo il fronte attitudinale poi c'è tutto quello psicologico c'è tutto quello degli interessi per quello che dicevo che bisogna bilanciare la lunghezza dei test con il fatto che i ragazzi è anche molto interessante perché cioè con l'indottrinamento che viene spesso per educazione familiare o anche per la società in generale magari il ragazzo di 19-20 anni era inconsapevole magari di alcune capacità intrinseche a quello che noi chiamiamo in sintesi l'io che però è inconsapevole di questo quindi portargli alla luce intanto gli si crea una consapevolezza che prima non aveva e questo è importantissimo ma gli si dà anche le possibilità di rientrepretare tutto quello che poteva essere il suo futuro di vita cioè dirgli guarda che tu sei bravissimo a fare questo ah sì davvero non lo sapevo e se sai far questo puoi accedere a questi tipi di percorsi che magari gli piacciono anche che però magari lui non era autocosciente cioè non era cosciente di questo quindi al di là del cioè un percorso secondo me anche di maturazione personale per i ragazzi importantissimo che ognuno secondo me dovrebbe fare proprio di default se poi lo democratizziamo quindi lo rendiamo accessibile a tutti al costo di una cena di pesce voglio dire sarebbe stupido non non farlo qui si aprono poi anche dopo i mercati esteri si aprono anche altre situazioni di implementazione riguardo a questo e di 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 percorsi comunque dicevo il percorso completamente automatizzato ti dà già una risposta che è sicura alla quale viene mi sembra con una cifra anche bassa viene integrata appunto da un colloquio con un psicologo appunto da un allievo di Simone o da Simone stesso che usa il suo stesso metodo che è stato istruito sostanzialmente appunto per parlare con i ragazzi un psicologo per parlare con i ragazzi e per magari andare a a rifinire quello che l'algoritmo non riesce da un punto di vista umano ecco questo tipo di upgrade di upsell che viene che verrebbe fatto avrebbe comunque un costo abbastanza relativo me lo puoi quantificare indicativamente perché siamo ancora in una fase in cui i prezzi mi rendo conto che non possono essere definiti allora adesso appena l'algoritmo diciamo sarà pronto e sviluppato il servizio interamente automatizzato sarà venduto a un prezzo veramente ridicolamente sotto i 100 euro sotto i 100 euro e comunque io la mia la mia politica è di mantenere questa filosofia del basso cioè le famiglie tutte le famiglie devono poter accedere a questo servizio quindi anche quello che prevede un colloquio con lo psicologo o con la psicologa perché siamo un team resterà sotto i 200 euro 160 170 180 resterà di sotto di queste cifre perché deve poter essere accessibile per tutti questa è la nostra filosofia ok poi chiaramente chi desidera approfondire fare ulteriori colloqui perché come hai detto giustamente si crea proprio il nostro obiettivo non è indicare ai ragazzi la loro strada ma far vedere ai ragazzi la loro strada io uso sempre questa frase quando parlo con i ragazzi nei primi incontri cioè l'università o insomma quello che si fa dopo la scuola che sia l'università uniti un percorso è un mezzo per giungere a uno scopo cioè lo scopo non è l'università l'università è un tramite che ci porta da qualche parte e pretendere di scegliere l'università senza aver chiaro un percorso di vita un ambito professionale verso il quale si vuole tendere è come pretendere di scegliere cosa mettere in valigia senza sapere dove si andrà in vacanza non si può fare cioè non sai se devi metterci dei maglioni o dei costumi da bagno e l'università è questo è la nostra valigia è quella che ci permette di o il mezzo di trasporto vado in aereo vado in treno vado in macchina vado in bici dipende dove sto andando ecco questa è la scelta dell'università quindi il nostro obiettivo in realtà è aiutarli a prendere consapevolezza profondamente di quale futuro professionale immaginano per se stessi sulla base di come imparano a conoscere se stessi di risulta la scelta universitaria è quasi ovvia a quel punto è veramente una banalità e a quel punto io vedo proprio i ragazzi che sgranano gli occhi che si illuminano che finalmente si alza la nebbia letteralmente si schiariscono veramente cosa su come vogliono fare certo sì sì su questo sono perfettamente convinto anche perché è un'età ripeto dove si è molto confusi e si è molto inconsapevoli delle potenzialità e anche di quello che uno può desiderare fare nel futuro bene Simone se hai delle altre cose da dire ti lascio spazio se no salutiamo e chiudiamo la trasmissione io ho cose da dire semplicemente credo si sia capita la passione con la quale faccio faccio questo e questo è veramente tremenda sei veramente travolgente si vede perfettamente la passione e l'entusiasmo e soprattutto anche la competenza io sono sicuro che Orienting Academy avrà un successo nazionale nazionale subito poi dopo vediamo cosa fare però a livello nazionale molto importante appunto perché abbiamo tutti gli elementi cioè qui abbiamo l'imprenditore abbiamo il tecnico psicologo tecnico e abbiamo un ragazzo perché è ancora giovane Simone ti dico dall'altro dei 1052 anni tu sei giovane che ha proprio l'energia il drive per poter portare avanti questo tipo di progetto no matter what quindi poi è un'altra cosa che ci tengo a dire che adesso ovviamente ci sono io qua a parlare perché poi è il mio progetto eccetera ma in realtà siamo un team siamo un bellissimo team c'è il mio socio che insomma con cui c'è un'amicizia storica ma che è un programmatore veramente coi controfiocchi c'è un team di informatici che lavora guidati da lui c'è un'altra insomma un'altra persona con cui ho rapporto decennale di amicizia e collaborazione che collabora con me sul fronte psicologico quindi nel team per formare il team di psicologi c'è un bel team di docenti c'è ovviamente del personale anche di staff di supporto a livello di segreteria di marketing insomma c'è veramente un bel team di persone quindi in realtà sono qua io ma sono qua anche a rappresentare tutti loro e in realtà uno dei miei grandi obiettivi ovviamente è poter allargare sempre di più questo staff perché insomma essere circondati da tante persone e trasmettere questa passione a tanti è ancora più motivante più bello va bene signori vi salutiamo tutti speriamo che la trasmissione sia stata interessante Simone ci vediamo in video call che è già programmata mi sembra domani o dopo domani non ricordo e auguriamo tutti anche una buona domenica anche da parte mia a presto arrivederci grazie per l'attenzione ciao